Roberto si intitola Una rosa per te posso dire allora ho deciso di fare questo brano anche perché io con spada ci sono stato dieci anni spalla spalla nello stesso microfono un omaggio Una rosa per te io ci sono andato a caccia penso a te vai Roberto Ruffilli il bomber Sì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.